Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene, oggi siamo qui in un nuovo Decespugliatore Vlogger, scusate se non vi sto guardando in faccia, ma sto guidando Quindi è meglio focalizzare l'attenzione su qualcos'altro Che è la strada Niente, dov'è che sto andando? Sto andando ad aiutare gli alpini nella mia città Ebbene sì, fanno manutenzione i vari sentieri Grazie a tutti 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 Grazie a tutti